Un centro nazionale per il trattamento delle psicopatologie nell'autismo e nelle disabilità intellettive è il progetto di Fondazione Sospiro di Valencia Internazionale allo scopo di accogliere e fornire trattamenti integrati per diminuire le psicopatologie e i disturbi del comportamento. Un centro nazionale il cui avanzamento del progetto è stato illustrato questa mattina a Cremone in amministrazione provinciale in cui si prevede la realizzazione di una prima residenza a 10 posti letto per accoglienza, trattamento integrato e di missione protetta. Tra gli obiettivi dei trattamenti la riduzione delle problematiche comportamentali di almeno il 70% rispetto alla frequenza, intensità e durata esibite al momento dell'ingresso. Il progetto è partito da un'idea innovativa, da un progetto clinico che ha seguito il professor Corti che è il dirigente del nostro Dipartimento delle Disabilità per poter dare una risposta diversa, non solo di residenzialità alle persone con disabilità, autismo e problemi psichici, ma l'idea è quella di fare degli interventi massivi da un punto di vista comportamentale soprattutto e nel giro di 6-12 mesi poter restituire la persona alla famiglia in un contesto di vita che sia invece vivibile sia per la persona con disabilità, giovane con disabilità, sia per la famiglia sia per il contesto sociale. I lavori in ordine generale sono circa il 70% delle opere realizzate, tutta la struttura principale è praticamente conclusa, le opere di urbanizzazione sono praticamente quasi finite, attualmente stiamo affrontando semplicemente le opere di finitura interna, vale a dire pavimenti, rivestimenti e controsoffittature. Stimiamo che in un paio di mesi circa potremo avere l'edificio praticamente completo e collaudato. Inoltre è prevista la formazione dei familiari per garantire una generalizzazione delle competenze e un reinserimento nella famiglia o nei servizi residenziali a bassa intensità.